Ciao, buongiorno, mi chiamo Cinzia Borgosano e ho 27 anni e c'è una cosa che mi succede molto spesso che mi piace ma allo stesso tempo mi fa un po' paura, la gente mi dice che sono matta, che sono un po' pazzerella, un po' folle e... bene, però mi ricorda in realtà una cosa della mia adolescenza cioè che mio fratello non si limitava a dirmi che ero matta, mi diceva direttamente che ero proprio malata che doveva andarmi a fare un controllo, ma perché io avevo l'habitude di girare per casa nei corridoi di casa mia parlando in francese, in inglese, io parlai tutto il tempo in spagnolo, in francese perché j'aime le lingue, ma soprattutto perché c'era come se io facessi una seance di psicologia o là, non lo so, non so, io parlai con me stesso e, di nuovo, io non volevo che gli altri compressi e lui odiava questa cosa e quindi io lo facevo sempre di più. Ma è che lo faccio ancora oggi? Do you think that all this is crazy? I don't think so. I think it's normal. Everybody does this. Ma comunque penso che lo facciamo tutti. Vi mostro i miei profili. Ciao.